E salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video Finalmente è arrivata la 012 E niente, questo video è un videoclip Cioè ma ci sono un po' di clip sparse e molto carine E diciamo che nella community tab Non so se avete visto, se non sapete dov'è Andate sul canale dove c'è tipo video, home e altre cose C'è anche community E lì avevo pubblicato, avevo fatto un post che dicevo che avrei Praticamente i video saranno stati il 99% su reserve Diciamo che sarà così Li farò nel modo vecchio, quelli su reserve Vediamo un pochettino Che avevo sostanzialmente partivo parlando Insomma ero da solo quindi parlavo un po' di più Interagivo un po' di più con voi eccetera E quindi niente Per ora vi metto questa clip Queste clip Spero vi piacciono E niente Finalmente è arrivata questa 012 E poi penso che arriverà anche un video dove ne parleremo Buona visione E li abbiamo dietro ragazzi Li abbiamo sopra Ok facciamo il giro largo Li prendiamo Li vedo, li vedo, li vedo davanti a me Davanti a me Mi ha visto forse Chi è al traliccio io? Dov'è, dov'è, dov'è Nessuno Spara Traliccio, traliccio Granata, granata, lanci una granata Vai, bravo Lo distraggo Lunga Proprio sotto al traliccio Dentro il gabiotto Dentro il gabiotto Si è chiuso il gabiotto Dentro il gabiotto Lo sento, lo sento Catto Nice Nice Vedo un cadavere Esterno gabiotto Bene Io volevo Un cadavere Questa sera Ti provo Ma Ti vedo Ah Non so Ci vedo a sinistra forse arrivano sta camminando piano piano è dietro lo scaffale qui di fronte lo vedo ho visto è scappato ho fatto da destra a sinistra eccolo ok è morto ok non è solo eh c'è un altro sta andando a più piano sta arrivando perché si è fermato eccolo raga è ancora qui di fronte è un altro morto oh cazzo si è sulla destra è sulla destra ho visto che è sul davanti è sulla cassa è di qua ok lo vedo io l'ho presa l'ho fatto? si ok ok io vissi noi udalui l'ho presa Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, perché c'è uno con i mosi indietro. Grazie a tutti. 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 No... Grazie a tutti. Ok, sono praticamente dove c'è il bidone rosso io. No, sto andando super piano. Vai, vai, vai. Allora, qui c'è un morto. Grazie a tutti.